e dovremmo già essere online quindi innanzitutto vi ringrazio e ringrazio Pino per la possibilità di presentare questo libro come sapete Transforma Italia periodicamente offre questi spazi che sono un po' spazi di ragionamento politico anche di storia politica del nostro paese in particolare di Roma in questo caso e ci fa piacere insomma che anche a raccogliere queste grandi testimonianze ci siano anche le nuove generazioni e quindi io sono contento di poter ospitare anche Ginevra Amadio che con Pino sta lavorando anche ad edizioni di podcast ma questo lascio a lei subito la parola con noi c'è anche Roberto Musacchio che fa parte diciamo della redazione di Transforma ed anche di Transforma Europa e naturalmente anche Pino Sattarelli che è l'autore del libro a cui daremo diciamo l'ultima parola per questo appuntamento e grazie ancora a tutti voi e a chi ci sta seguendo e do subito la parola a Ginevra per introdurre un po' quali sono gli aspetti e quali sono le cose che le hanno le hanno le sono più piaciute. Prego Ginevra. Grazie e grazie Roberto grazie alla redazione di Transforma e ovviamente a Pino per aver per avermi chiesto ecco di intervenire in questo incontro di oggi. Il io sono particolarmente contenta proprio perché si tratta di un ponte tra generazioni e con Pino ci siamo confrontati moltissimo a partire da questo testo e poi siamo tornati a ritroso perché non ci conoscevamo quando lui aveva pubblicato il primo volume appunto Rosso e il cammino. Quindi per me è stata sicuramente un'immersione all'interno di un'epoca che non ho vissuto che ho tanto studiato e anche appunto prima poi di incontrarne i protagonisti. Quindi io credo che questo libro ecco a differenza del primo che comunque è un memoir e ha il è una autobiografia quindi ha la forma romanzo. Questo è un libro che ha anche un valore storico però allo stesso tempo le conversazioni che Pino tiene in Io c'ero appunto con più di venti membri del della federazione giovanile del PC romana sia comunque innanzitutto un racconto di formazione perché lo schema che lui adotta con domande che poi variano ma sono delle domande ricorrenti ricorda un po' quello che si usa nella ricerca della metodologia della ricerca sociale cioè partiamo dalle origini andiamo avanti come è iniziato a fare politica e poi spessissimo nelle risposte e anche nelle domande si incrociano momenti di vita. Quindi c'è una intervista e testimonianza e poi appunto sarà sarà lo stesso Pino a spiegarci questa differenza che però circoscrivono un oggetto che è un vissuto esistenziale politico e che permette proprio alle nuove generazioni di cui io sono poi una rappresentante di entrare veramente all'interno di una porzione di storia senza vivere quel filtro che inevitabilmente quando non conosci poi le storie le esistenze individuali porti comunque con te. Quindi c'è quella che viene raccontata è sicuramente la storia collettiva di una generazione di militanti attraverso un occhio privilegiato che è quello della anzi un osservatorio privilegiato che è quello appunto della realtà romana. Prima Roberto parlava appunto dopo dello spazio dato a queste a questo tipo di realtà in transforme. Io insomma sono sono contenta che anche appunto Iocero offra questa possibilità perché poi c'è questo confronto continuo con la città di Roma che è una città assolutamente particolare dove avviene il cosiddetto incontro del misto nel senso che si parlano classi sociali diverse, quartieri diversi, esperienze di vita completamente all'opposto e che probabilmente in quella stagione storica e in questa città che è sempre disorganica, disordinata ma assolutamente votata alla commissione può avvenire. Quindi io ecco più avanti magari mi piacerebbe confrontarmi con voi anche proprio su che cosa mi ha colpito, su che cosa questo libro può insegnare. Però una cosa la dico già da adesso perché mi è stata chiesta in altre situazioni che cosa può imparare un giovane da questo libro può imparare sicuramente a non avere una ricetta per riprendere quanto è stato fatto in passato perché cambiano i contesti però la storia si ripete cioè io dico sempre che è un campo elastico quindi la memoria si rinnova leggendo, sentendo, parlando e che sia mai che insomma qualche cosa impariamo per poter poi applicarla in contesti e in temperie nuove. Quindi questo per il momento è quello che mi sento di dire. Ringrazio Ginevra e ho dimenticato di dire che il libro edito da Bordeaux e poi Pagalpino ci potrà anche indicare dove poterlo acquistare come e che comunque è appunto una testimonianza di persone che hanno vissuto nell'arco diversi anni l'esperienza appunto della di quello che è stato il Partito Comunista a Roma e uno di questi era Roberto Musacchio e a lui gli do la parola per aggiungersi se vuole a questo grande elenco di personaggi. Innanzitutto grazie Pino devo andare a comprare il libro perché l'ho letto più di metà, io poi leggo sul telefonino quindi devi immaginare anche la sofferenza a leggere sul telefonino però compensata anche dal divertimento. La prima cosa è proprio una battuta. Tu che a un certo punto dice che hai sofferto molto in una sezione in cui c'era una forte presenza troschista di rifondazione comunista in realtà si è cresciuto dentro diciamo organizzazioni a partire dalla federazione giovanile comunista che era piena dei troschisti insomma e questa è diciamo una prima cosa che mi ha fatto tenerezza e però insieme invece è una grande ammigliazione, hai fatto un lavoro importante, prezioso. Noi sul transport abbiamo provato un po' a scrivere sulla storia del PC lì ci sono molti sì, no? Dentro il libro che hai fatto te attraverso le interviste, no? E invece noi abbiamo provato a fare un sì ma, cioè nel senso anche un po' ad attualizzarle e poi verrò un po' su questo, no? Io ero anche incuriosito molto dalle cose di Ginevra e quindi la prego poi di dirlo nel senso che come ti è sembrato perché può sembrare anche quelli che tu incontri al base, ma io però sai ho fatto questo o l'altro conosciuto, non lo so, un pochino l'ha fatto anche a me perché loro sono un pochino più vecchietti di mezzo, qualche anno in più, erano quelli che io ho incontrato affacciandomi sullo scenario, poi io ho fatto molto lavoro politico nazionale, qui c'è uno spaccato romano, però dire romato è poco perché e poi sullo sfondo ci sono i grandissimi, in grau e così via, ma soprattutto anche i militanti romani hanno una dimensione culturalmente assolutamente nazionale o addirittura internazionale, quindi ero un po' curioso. Poi ho pensato anche a questo film che va molto di moda, non so come dire, ci ha successo, poi le cose quando hanno successo c'è un perché, che è questa c'è ancora domani, non so se tu l'hai visto, io l'ho visto in un cinema vicino a Viterbo, però non era pieno, però pieno di gente più o meno dell'età mia, quindi mi chiedo anche, insomma, sia a Pino se è piaciuto, ma anche a Ginevra invece se l'ha visto che effetto fa, perché mi ha dato l'idea che se uno, perché piace quel film, forse perché ti ridà un senso. Non facciamo troppo spoiler adesso, ma insomma alla fine, ma sì, tanto siamo dentro un film conosciuto. Tra le due ipotesi in campo, lei che fugge dal marito manesco con un altro uomo e invece la sorpresa finale che invece va a votare per la prima volta per la Repubblica, la prima volta che votano le donne, appunto succede questa seconda ed è un grande momento collettivo in cui l'individuale si incrocia con un grande fatto, insomma. E qui ci sono tutte storie individuali, anche diverse, no? Le estrazioni sociali sono in fritto misto, anche quelle di provenienza, appunto Pino viene da Scurcola, poi c'è chi veniva da vicino Benevento come Franco Russo, un amico, un compagno e così via discorrendo, che si ritrovano e fanno questa gigantesca conversazione. Il libro mi ha colpito molto perché è come proprio mettere insieme queste voci, poi come l'hai fatto tu, no? Che sono interviste semistrutturate, come si dice sociologicamente, che però danno spazio a ciascuno per raccontare e infatti è un libro in fondo su tutto il Novecento, perché se risaliamo ai genitori, quelli che vengono intervistati, avendo quelli intervistati un'ottantina, i genitori si vanno indietro di un'altra ventina, trentina e così via. Cioè un po' tutto il Novecento, anche il passaggio del fascismo, la resistenza e così via. E quindi si sentono voci molto diverse. Ognuno racconta, è anche divertente, perché ci sono dei pezzi in cui uno parla male dell'altro, oppure rispetto a delle persone si danno giudizi totalmente diversi uno dall'altro. E Pino è molto rispettoso, molto capace di far esprimere tutti, mettendoci poi sempre il suo. E questa è una cosa peraltro di Pino che mi ha colpito. Cioè Pino, lo sapevo, insomma, in questo senso ci assomigliamo un po', Pino. Abbiamo fatto tante scelte anche in solitaria, cioè anche rispetto ai gruppi di appartenenza. Tu per esempio sei entrato al PC un anno prima del Ptup. E io ricordo quanto ho litigato con il tuo amico Crucianelli, con Lucio Magri e gli altri per dire che era ora di entrare al PC, perché dopo la svolta di Salerno era necessario farlo e farlo non per l'esaurimento della nostra storia, ma perché bisognava, ed ero giovane, insomma investire dentro una... che cosa? I riaprissi di una possibilità dopo che c'era stata una diaspora. Nel libro Le Mille Voci, non sembra la lingua salvata. Non so se tu l'hai letto, Ginevra... Di Canetti. Di Canetti che all'inizio dice che cosa ti ricordi di dove sei nato? Che ognuno parlava la lingua sua e però ci capivamo tutti. Ecco qui, ognuno parla la lingua sua, ognuno c'è il suo, ma poi alla fine convivevano, poi si sono litigati e così via. Ma c'era una dimensione che univa in qualche modo questa possibilità di parlarsi tra i comunisti e i socialisti, per esempio, c'è gente lì che passa dai comunisti ai socialisti o viceversa, con i gruppi, con i movimenti, così via. Per un lungo periodo contenuti tutti all'interno del PC, anche per questa scelta di entrismo troschista, ma non solo, ma anche per la capacità di ascolto. Per esempio i ricordi di Luigi Longo sono molto importanti perché viene considerato un segretario minore della storia del PC e invece è sicuramente uno dei grandi sé, no, Pino, che tu metti dentro un libro che poteva essere una storia diversa. E poi la diaspora in qualche modo, però meno dolorosa perché è dentro ancora un contesto in cui c'è un protagonismo sociale e politico, il 68, il 77 e fin anche dopo gli anni Ottanta, le lotte per la pace e poi la fine del PC e riproporsi con la rifondazione comunista di una capacità di rimettersi un po' insieme, che poi si disperde. E infatti nel libro ognuno ha il suo sé. Se era così, se era cos'ha, bisognava far questo, bisognava far quell'altro. Insomma, c'è gente che ha vissuto questo dialogo e questo poter far storia dentro un contenitore che poi pensa forse era meglio che proprio non c'era proprio. Oppure le letture più diverse di Lenin. A un certo punto ho letto una cosa, non mi ricordo se è di Pio Marconi, su Lenin, me lo ricordo, fino ad aiutami un attimo, una lettura, diciamo, anarchicheggiante di Lenin. Una ricchezza. Una ricchezza che... Quando io gli chiedo a Pio, gli chiedo, ma insomma, tu Trotskista così che scrivi, fai la prefazione sul Stato di rivoluzione, lui mi spiega che secondo lui era un libertario e la vedi in questa chiave, insomma. Sì, sì, appunto, sono assolutamente ricche perché il punto è che fino a un certo punto si incrociano con la storia, con quello che può succedere, con il fare, no? All'inizio è divertentissimo perché tu c'hai Maria Luisa Boccia, quindi l'ingraismo, poi c'hai Flores d'Arcais, un altro perché, poi c'hai Angelino Fredda, quanti siamo in sezione, quanti volantini, quello che abbiamo fatto, è tutta questa roba qui, no? E appunto queste cose stavano insieme, anche se è chiaro, in molti di loro c'è principalmente un occhio ai gruppi dirigenti, tu stesso, insomma, sei andato a cercare i gruppi dirigenti con cui hai, ma molto allargati perché fai tanti nomi, alcuni non ci sono più, ecco, e questa è la parte che mi interessa anche discutere con voi, però poi c'è un'altra che io ti volevo proporre di continuare a fare un altro libro che invece che io c'ero è Io ci sono, perché nel senso che tu stai facendo un lavoro portante, prezioso, no? E quindi ci sei, perché la cosa che alla fine mi ha colpito, ti ho detto sto a metà, però ho letto anche le conclusioni tue, è che alla fine tutti se la prendono con gli altri, più o meno, ma quasi nessuno che se la prende con l'avversario, sembra quasi che il problema siamo solo noi. Ora, io non voglio essere autoassolutorio, penso che si possa discutere tutto, Lenin, figuriamoci Stalin, che non c'entra niente con la mia storia, anzi è un avversario dal mio punto di vista, va a togliare qualsiasi cosa, ma è come se a un certo punto avessimo smarrito il fatto che c'è un avversario che ci ha sconfitto e che noi siamo in una fase assolutamente di incapacità di parlare anche le molte lingue di una babbele. Cioè, se vedete quello che succede adesso, anche tra compagni chiarissimi sulle vicende dell'Ucraina e della Russia, e le vicende ancora più, mi colpisce ancora di più, Palestina e Israele, sono veramente cose che non riescono più a comunicare. Allora, con il messaggio di Facebook che poi vengono semplificate e anche diventano più acri, però è una cosa che mi inquieta e anche perché in fondo io ho la percezione che a un certo punto non c'è stato più realmente il sentire comune. Alla fine, ancora fino a Berlinguer e Craxi, tra comunisti e socialisti ci si poteva parlare. La cosa drammatica che avverto Pino, e questo ci porta all'oggi, che a un certo punto, e di questo non parla quasi nessuno lì, insomma, la parabola dello scioglimento del PC non è semplicemente che sciogli un partito, è che contemporaneamente voti per Maastricht, fai la concertazione sindacale, entri dentro un'Unione Europea che, naturalmente, io sono un'europesa, tu sai, ma che pratica sistematicamente la guerra, il revisionismo storico, sostituisce i valori della Costituzione, i valori di mercato e ti trovi alla sorsa di impazzimento che in questo momento noi, secondo me, viviamo, che non è solo italiano perché succede anche in altri paesi. Insomma, questa cosa che la socialdemocrazia tedesca sia contro il cessato del fuoco in Palestina, a me è colpito. Cioè, se questo è il modo di espiare le colpe della Germania rispetto a quello che hanno fatto nei confronti degli ebrei, mi pare a sommare un'altra colpa, piuttosto che cosa. Ecco, e quindi questa parte invece mi ha colpito, perché come se invece, ecco, lì sì, ci vedo un po' la cosa che nessuno riesce a uscire da se stesso. Però ovviamente complimenti proprio per, sei straordinario. Grazie Roberto, ci stanno tantissimi spunti, magari facciamo anche due giri, non ci possiamo fermare, certo, tenendoci in tasca le parole. Però Pino, magari se vuoi, poi già, prego. Vabbè, innanzitutto grazie a voi, grazie a Transform che mi dà questa opportunità di essere anche online. Io questi ultimi mesi, insomma, ho fatto già una decina di presentazioni con grande mia soddisfazione, perché non tanto perché i compagni vengono, ma insomma, io ho fatto tre presentazioni in tre sezioni di Finistra Italiana, partito al quale ho appartenuto fino a due mesi fa, nel senso che mi sono autosospeso perché non ho voluto partecipare a un congresso un po' finto, insomma, però sarebbe un altro discorso, un'altra discussione da fare. Mi considero ancora un militante di Finistra Italiana che è la, diciamo, provvisoriamente alla fine di un percorso politico che voi sapete benissimo, Ginevra un po' di meno, però glielo ho raccontato, insomma, che poi io mi considero essere sempre stato nella stessa parte, no? Sono stato nella PDC, nel PC, sono stato radiato, sono rientrato nel PC, ho partecipato, insieme a tutti i compagni che erano della componente P2P dentro il PC, insomma, contro lo scioglimento di quel partito dopo la Bolognina. Io, forse sono gli altri che si sono spostati di qua e di là, insomma, ritrovo piacevolmente a fare le battaglie con compagni che quando eravamo giovani io consideravo di destra perché erano mendoliani e che siccome poi invece loro sono stati coerenzi perché venivano da un partito la terza internazionale, loro, compagni miei amici vecchietti come me, insomma, che appunto erano esponenti di che la destra, relativamente destra è partita, insomma, miglioristi e che oggi si ritrovano fortemente, non hanno mai aderito al PD, al PDS e così via e che stanno su posizioni di sinistra, capite bene quello che voglio dire. Roberto Musacca mi dice, non è che scrivessi un altro libro, io ci sono. Beh, intanto io credo che le stagioni di vita non sono tutte uguali, no? Io per tutta la vita ho fatto volantinaggio, ho attaccato i manifesti, ho attaccato miardi dei manifesti, però poi se vado e non mi sono mai spaventato andare a fare volantinaggio da solo fino a qualche anno fa, magari organizzando i compagni, però se arrivavo all'angolo tra via di Burtino e via dei Sardi da solo, facciamo il volantinaggio, dopo di che c'è un problema di comunicazione e di estetica, no? Se tu vai da solo a rappresentare un partito, dici, ma che cazzo, quel vecchietto da solo, insomma, non è possibile, insomma, quindi volantinaggi non ne faccio più, magari in compagnia sì, però io nel libro poi lo dico Roberto Musacca, proprio nella parte finale del libro io sostengo appunto, come sono convinto che la storia non si ferma, non si ferma e che le contraddizioni di classe riesploderanno quando, certo, la situazione mondiale, economica, sociale è completamente diversa, insomma, noi rispetto a quello che io ho raccontato nel mio primo libro, insomma, è una cosa completamente diversa, non si può più riferire, poi vengo pure al film, no? Io ancora non l'ho visto, però insomma, ho visto tutte le discussioni che sono state fatte. Io, diciamo, in questi giorni appunto sono andato alla ricerca, alla memoria di alcune cose, alcune situazioni, allora mi sono ricordato che io ero nel 1962 segretario del circolo a 300 celle, un circolo che aveva 300 iscritti, insomma. Ora, 300 iscritti c'è la sinistra italiana in tutta Roma, forse 400, ma insomma, per la dimensione. Per capirci, poi sono stato segretario di zona della Pgc, della zona di Burtina-Casilina, sempre in quegli anni, dal 1962 al 64, 65, 66. Nella zona perinestina-Casilina avevamo 21 sezioni con 21 circoli, credo che ci fossero 4-5 mila iscritti nella zona di Burtina. A Roma avevamo 20 mila iscritti, in quegli anni di cui parlo. Insomma, mi sono ricordato che ci contattò allora Massimo Mila, che era un documentarista, era il fratello di Dario Puccini, anche lui regista, faceva parte di quel gruppo di registi, cinematografari, insomma, comunisti, di cui Cittomaselli era uno degli esponenti maggiori, insomma, per capirci l'ambito, e ci propose di fare un film documentario su Centocerga. Io quel film lo vedemmo una volta perché organizzammo una visione collettiva al cinema Rialto, appena uscì, e poi non l'avevo più visto. Poi invece, dopo tanti anni, il circolo di rifondazione di Centocerga organizzò, credo, nell'occasione di un congresso, insomma, di rifondazione, e nel programma c'era la proiezione di questo film. Io poi ero andato lì proprio a tenere il congresso e raccontai come era nato questo film e così. Insomma, la faccio breve. All'AMOD, dopo tanti anni, sono riuscito a rintracciare sto film che è bellissimo, che è bellissimo. Questa fotografia in bianco e nero, infatti, parlando con dei compagni, stasera siamo stati a un evento che è il ricordo di Mario Tronti, insomma, poi a cena di... Ah, quel film, perché poi io l'ho mandato ai compagni per farlo vedere. Ci sembra proprio il seguito del film da Cortellessi, insomma, perché era un po' dopo, perché Centocelle, sto quartiere sgarruvato, povero. Se vedono, ci vediamo, insomma, perché poi mi vedo io, se siete il mio fratello, insomma, i compagni, uno per uno, i compagni, i compagni del circolo di Centocelle, insomma, a parte proprio l'emozione, eri vedete, sono passati 60 anni, insomma, però giovane, però va sicuro, è un quadro veramente di quello che era quella società lì. Ora, tornando invece al libro, non voglio far tanto lungo, insomma, poi utilizzeremo sto film in qualche modo. Appunto, già ho cominciato a mandarlo ai compagni, ai circoli. Dicevo prima, la cosa, abbiamo fatto la presentazione, per esempio, alla sezione sinistraliana a Testaccio e c'era Vincenzo Vita che mi diceva, ma cazzo, si rivedono le sezioni piene di gente. Insomma, con una richiesta a me, insomma, come dire, date da fare, organizziamo la sinistra, insomma, che poi, insomma, però per quello che dicevo prima, non è che io ho scritto un libro, ho cercato di esterminare, poi ho spiegato pure com'è nato sto libro. Io da sempre volevo raccontare quell'esperienza che in parte l'ho raccontato nel libro di memoria, insomma, però soprattutto, insomma, che io un giovane borgadaro, de Centocelle e de Borgadaro e Sandino, fossi messo in condizione di parlare tutto per tutto, gente come Natoli, come Ingrao, come Bufalini, come Trivelli, era, diciamo, non era il miracolo, era il frutto, il portato di quella invenzione geniale politica che era il Partito Nuovo degli Atti. Io su questo, proprio voglio essere esplicito, fine e in fondo, che appunto, che mescolava esperienze, culture, tradizioni. Io poi, me lo ricordo, io ero uno abbastanza sveglio, però quando facevamo il riunione del Comitato federale della PGC, me ne ragliavo sempre, un po' mi indignavo pure, ma com'è che io capisco sempre dopo, ci stanno questi qui, porca puttana, ammazza come sono bravi, no, che ne so, Franco Russo, i Bolafi, Paolo Clore Starcais, questi qui erano sempre più sverti. Poi, certo, una ragione, una razionalizzazione te la fai, no? Appunto, io avevo fatto la prima media, ma avevo bocciato e andato a lavorare. proprio le basi culturali, poi man mano mi sono costruite, ma grazie al partito, grazie all'ambitanza, insomma, e poi, diciamo, ritornando a studiare in maniera più coordinata e più ordinata, insomma. Il libro nasce appunto dalla volontà di raccontare quel tipo di rapporti tra giovani e l'abbiamo detto poi durante varie presentazioni. Allora, tra i giovani, oggi credo che se un giovane fa politica viene considerato un po' uno sfigato, un po' uno che c'è un cazzo da fare, anziché andare a morire, a bere con gli amici di scuola, a trastevere in qualche altro posto, l'ho sfigato, va nelle sezioni, quelle poche sono rimaste, poi potevo cercare di fare un po' di politica, magari pensando alla carriera, pensando... Allora no, allora fare politica? Io a 100 centri ero un liderino, no? E per questo non solo avevo un senso di soddisfazione, perché le cose che facevo poi davano dei risultati, anche pratici, in termini di raggiungimento degli obiettivi. Io in quel film che dicevo di Mita, si vedono? Perché era stato girato. Da appena dopo noi facemmo proprio il circolo, organizzò senza l'aiuto dei grandi, una manifestazione contro l'aumento delle tariffe dranguari, passavano da 15 lire a 25 lire. Ci fu una vera rivolta, rivolta, che noi proprio con azione non userei tranquillamente potrei di carattere leninista, nel senso che eravamo sette ragazzini più un compagno anziano, fermammo, bloccammo i zambetti, così in termini di mezz'ora c'erano 10.000 persone in piazza che fecero lì a Dio, poi i scontri con la polizia durarono un altro giorno. E lì sono ancora raccontati in quelle cose. Questa era come noi viviamo la politica, per cui oggi si tratta di recuperare pure il senso, no? Io infatti nell'altro libro ho anche raccontato spesso quando stavo nel Piduppe, io nel Piduppe stavo proprio bene, eppure facciamo meditanza a tempo pieno praticamente, era soprattutto negli anni 70, fino agli anni 80, c'era un momento, appunto, però io stavo bene, no? Allora, quando, e questo l'ho raccontato diverse volte, quando andammo per la prima volta a fare una manifestazione a Comiso, la prima manifestazione in massa che si fece a Comiso, arrivammo con due pulma a partire da Roma, sul piazzale di Villa San Giovanni, e siccome dovevamo aspettare un'oretta, un'oretta e mezza, per imbarcarsi per andare all'altra parte in Sicilia, insomma, per andare a Comiso, man mano arrivavano i pullman del Piduppe, da tutta Italia. Io mi ricordo la considerazione che facevano, ma cazzo, ma allora siamo un partito, siamo una cosa seria, no? Perché arrivavano da Venezia, da Bologna, si fermavano lì sul piazzale, e poi la grande manifestazione il giorno dopo, io mi ricordo il nostro corteo del Piduppe Romano, con quello stricione meraviglioso che aveva preparato... Sì, il mio rapporto. Sì, bellissimo. E incrociamo su un lato, in mezzo a una stradina di campagna, c'era Sano a vedere sfila al corteo, c'era Lucio con Luciana Castellina e Pio la Torre, e naturalmente facevano grandi feste, per dire i ricordi e come si inquadrava. Ecco, il libro io non ho mai voluto forzare la mano, con le cose che mi raccontavano i compagni, e man mano, anzi, a volte, per esempio, per dire, quando Paolo Flores racconta che Pio Marconi gli aveva venduti, aveva venduto, diciamo, la lista dei compagni che arrivano alla Quarta Internazionale, a Maria Leggata, perché c'era in mente di fare segretario nazionale. Io ce l'ho detto pure pubblicamente, e poi l'ho invitato qui a San Lorenzo, alla libreria, a presentare il libro, insieme a Fausto Bertinotti, e ho detto, guarda, io non ci credo a sta cosa, perché noi sapevamo tutti chi erano i compagni, chi era stalinista, chi era giustista, chi era ingraiano, tutti sapevano tutto dell'altro, quindi non c'era nessun bisogno. E qui concludo, per dire una cosa, che io affermo continuamente, che tranne in alcuni momenti dove prevalevano alcune logiche settarie, settarie, legate ai meccanismi di potere dentro il partito, fondamentalmente il PC, nonostante io sono stato radiato dal partito e poi riammesso, fondamentalmente il PC era un partito democratico, dove le decisioni si pernevano collettivamente, quando c'erano le grandi questioni, non c'era sezione che non si riuniva, le cellule e così via, che discutevano dai tempi dei fatti d'Ungheria, fino a tutte le questioni che hanno riguardato le grandi questioni. Quindi il PC, che se ne dica, era un partito che sviluppava, diciamo, la formazione della volontà politica attraverso dei meccanismi democratici. Su questo, credo sia una delle eredità che mi volta presto e di cui sono orgoglioso. Grazie, Pino. Sicuramente, diciamo, la definizione di paese nel paese, Pasolini, l'esperienza politica, è una delle espressioni più riuscite per indicare proprio quella capacità di stare insieme, di mettere insieme anche teste diverse, come il racconto che fa nel libro. E credo, insomma, che quello che si è un po' perso Musacchio lo dice spesso, è mettere al centro una priorità. Ecco, il Partito Comunista Italiano è stato capace di avere una linea che guardava il futuro, aveva una visione di società che purtroppo la sinistra ha perso e si è frantumandosi in mille rivoli. Se posso aggiungere una cosa, Rubè? Prego, prego. Quando ho presentato la prima volta l'altro libro, Rosso al cammino, tra i presentatori ci sta Alessandro Portelli e lui, con una riflessione molto acuta, lui diceva «Vabbè, ma seriamo così bravi? Ma com'è che siamo finiti così?» E poi invece sono le stesse riflessioni che faceva Roberto Musacchio, perché non abbiamo discusso sulla sconfitta, perché noi siamo stati sconfitti. Questa è la verità, insomma. E se non ti fai carico di questa cosa? Come dice Musacchio, noi siamo molto bravi però a darci delle colpe e accusarci vicendevolmente di tradimenti o di mancate svolte piuttosto che appunto organizzarsi perché dall'altra parte una potenza è stata messa in campo. Ricordiamoci quello che è successo a Genova e quello che succede nelle nostre città adesso. Tu parlavi prima dei volantinaggi. Io credo che... Quanti manifesti hai messo? Ecco, io quello che ho vissuto anch'io da segretario di circolo che faceva questo lavoro è diventato impossibile, è diventato vietato fare politica per strada. Le feste che organizzavamo, che si organizzavano, si facevano con i compagni che mettevano a disposizione delle capacità, gli spazi, i luoghi. Oggi ci vogliono permessi, ci vogliono soldi per costruire le fognature. Cioè c'è un meccanismo che costringe quasi alla passivitazione, cioè a guardare le cose senza poterci entrare. E questo forse magari Ginevra su questo può dire meglio, perché come i ragazzi guardano la politica, come i ragazzi guardano la partecipazione democratica, secondo me è un tema centrale. Io sono d'accordo, cioè credo che ci siano anche proprio degli impedimenti che rendono tutto più macchinoso. Poi dall'altro lato che ci sia stata una disaffezione, forse più della mia generazione, io sono quelli che oggi è la generazione Y, però vedo che i ragazzi di oggi, la Z, insomma con l'ambiente hanno trovato forse un'altra forma di partecipazione attiva. Però la mia è stata molto silente, molto galleggiante, sicuramente da un lato perché non abbiamo più avuto un punto fermo, ci siamo, io dico sempre state una generazione di mezzo perché chi era interessato guardava le esperienze del passato che si erano concretizzate, però dall'altro lato non poteva riprodurle e invece chi interesse non lo aveva ha continuato insomma a vedere quel poco che c'era di solversi. Quindi questo, però ecco sicuramente è tutto più difficile, è tutto più difficile nel confronto, nella partecipazione, manca il contesto ancora in cui è più semplice esprimersi, cioè trovare una comunità, io lo vedo anche, insomma la partecipazione è sempre in minima, cioè con 3-4 persone si riesce a parlare, a portare avanti un progetto, per il resto si va a tentoni. Ripeto, forse la generazione di oggi attorno all'ambiente io vedo più partecipazione e mi fa molto piacere questo, Fridays, queste esperienze qua, però le eseguo comunque tangenzialmente, le ho viste che soprattutto in Nord Italia qualcosa insomma fanno, però ecco è un'altra storia. Però io penso, io faccio anche l'associazionismo adesso, cioè noi facciamo l'attività di aiuto allo studio volontario dentro una scuola grande della periferia romana, Torpignatara, mia moglie, e c'è tutto il gruppo dei volontari che ha fatto un po' di gente in pensione, un po' di ragazzi, e quindi li seguiamo perché alcuni fanno servizio civile da noi, altri fanno i volontari, qualche piccolo progettino che riusciamo a fare. Cioè la caratteristica fondamentale secondo me è che nessuno ha una speranza di futuro che pensa possa essere realizzata collettivamente, no? per ritornare al film e che cosa piace alla fine? Insomma è quella che tutte queste donne alla fine erano tutte insieme a votare, questo è... La cosa che viene fuori dal libro di Pino, lui l'ha detta all'inizio perché si presenta come quello che ha fatto alla prima media e che poi dava i volantini, cioè il libro è straordinario, cioè lui fa una tessitura di ricostruzioni un pochino più segnate da solipsismo cioè di questi personaggi che essendo anche intellettuali di un certo livello ciascuno a carezza mantiene la propria idea e la custodisce insomma, no? A me è impressionato ma porca miseria ma Pino sa tutto, cioè riesce a passare da uno all'altro con pochi tocchi perché gli dice ma allora tu pensi che quella cosa e quindi sa gli avvenimenti, sa che cosa è stato scritto, sa le teorie di chi l'ha scritto, sa tutta diciamo la la cassetta degli attrezzi come si diceva un tempo è un movimento operaio che era fatta di sapere e di saperfazzo ecco, quindi quando lui dice democrazia questo libro è scritto in grande democrazia perché la democrazia è che ciascuno dice la sua ma che ci sia come dice Habermas un'etica del discorso che poi questo dire ciascuno la sua serve anche ad ascoltarsi, no? cioè io uso Facebook in questa maniera cerco di sentire gli altri di farmi capire invece se ognuno si racconta la cosa più disperante e per questo io dico che noi non abbiamo perso uno il senso di poter fare insieme e due il senso anche dell'avversario perché che cosa cambia dai tempi di che racconta fino e dopo che poi invece è la storia di rifondazione sostanzialmente quegli anni lì che io rivendico io ho vissuto molto bene sia il Pudup che il PC che la rifondazione sono contento di aver fatto il funzionario di partito perché mi piaceva moltissimo e insomma rifondazione è l'ultimo tentativo di mettere il piede nella porta che si sta chiudendo in faccia alle persone e succede una cosa che nel libro tutti accorgi che non c'era cioè loro migliorano tutti la loro condizione di vita economicamente socialmente culturalmente cioè poi può dire anche che c'è una degenerazione c'è chi allora fa il carrierismo il poltronismo eccetera eccetera però comunque sempre progredire sicuramente stavo facendo nordic working una cosa che si fa da anziani per la chiacchieriamo siamo tutti settantenni io mi ricordo parlavamo di pensioni che lì c'era il democraziano che faceva avere la pensione di invalidità a tutti quanti io ho detto guarda in quei tempi lo combattevo ma adesso quasi lo rimpiango perché preferisco uno che la fa avere la pensione al fatto che adesso tutti te la levano cioè noi abbiamo combattuto quella forma di clientelismo degenerato eccetera eccetera però insomma c'era un miglioramento individuale che andava avanti insieme un miglioramento collettivo e Pino appunto pratica nel suo libro la democrazia perché ciascuno dice ma poi viene ricondotto a un ragionamento per questo quando gli ho detto facciamo io ci sono è perché questa domanda che manca ma ma tu hai tu alla fine finisci dicendo ma tu ti senti ancora comunista no? chiedi a tutti sono bellissime risposte più o meno arrampicate sugli specchi esistenzialista ognuno dice la sua ma tu pensi ancora che c'è un avversario perché no no tu sì no la domanda non è a te a questi a loro perché sembra tutta una cosa in famiglia che il problema sia i traschisti contro i leninisti e questo riferita peraltro a un'epoca in cui in qualche modo tutti ci parlavamo no? e tutti appunto riuscivamo a stare insieme il problema è che c'è un avversario che è diventato fortissimo ma io vi ripeto stiamo assistendo a cose incredibili cioè quello che succede cioè la guerra che diventa nuovamente normale una guerra appunto siamo passati dalle bombe umanitarie alle tregue umanitarie che però devono far continuare a bombardare cioè è veramente una l'aumento dell'età media diventa una colpa per cui in pensione non ci si va più e questo comincia purtroppo con lo scioglimento del PC perché il PC tutto poteva fare essere moderato fare i compromessi una cosa non poteva fare è quella di far peggiorare la vita dei propri quella roba lì non si poteva fare perché quella lì non te la facevano fare non è un caso che il primo fatto di autentico peggioramento della vita di massa per le future generazioni peraltro è la legge Dini sulle pensioni quella roba lì che cambia radicalmente il sistema da retributivo a contributivo adesso non sto sul tecnico ma da un meccanismo di solidarietà intergenerazionale al fatto che tu prendi quello che ti sei accumulato ti sei messo da parte e colpisce duramente la generazione tua X Z Y quello che vuoi dire sarà alle prese con una cosa che non ci sono tutti i miei ragazzi dicono ma tanto io la pensione non la prenderò mai insomma è la roba lì ma anche l'idea che ci si potesse fare un futuro senza arrivare comunque adesso nel titolo di studio non ci serve per arrivare comunque a fare qualcosa cioè nel senso è tutto diverso è tutto senza voglio arrivare a questo racconto cioè noi a un certo punto ci troviamo di fondazione di fronte a uno scambio che non era mai capitato prima cioè non tra la politica e una riduzione delle richieste ma tra la politica e un colpo dato ai tuoi quando cade Berlusconi primo siamo nel 94 e arriva Dini il punto diventa che Dini fa più o meno la stessa riforma delle pensioni che voleva far Berlusconi e per la prima volta il movimento operaio il partito che veniva dal partito comunista PDS allora eccetera eccetera fanno una cosa Pino aiutami mai fatta perché tu avevi la compressione delle richieste la moderazione non l'estremismo Fredda si arrabbiava perché c'erano quelli che si autoridicevano l'affitto nelle case di Mariana eccetera le sappiamo queste cose qui non si fanno quelle lotte sono estremiste ma no che io ti tolgo e lì ti hanno tolto e quando succede uno scambio politico per cui io avanzo politicamente vado al governo e in cambio ti do un pezzo della vita della mia gente finisce e arrivi a quello che è successo adesso oramai siamo in una situazione in cui è difficile distinguere da questo punto di vista i vari soggetti politici e soprattutto è difficile avere una speranza collettiva ma questo corrisponde a una egemonia della classe avvergica Pino fa il libro ruota intorno a due cose che lui ha detto prima la leva Togliatti cioè il partito nuovo noi ne abbiamo scritto sul trasforma adesso abbiamo messo insieme il partito nuovo di Togliatti e Pinè di Mitterrand per dire due cose di grande ricostruzione io lo chiamo prevalente Roberto di una grande capacità di rimettere insieme e la seconda è la generazione della FGC di Genova dopo Genova quella delle magliette a strisce che la faceva finita con la FGC dei Bigliardini si chiamava così perché in sezione giocava a Bigliardino cosa utile carina per stare insieme ma diventa la FGC e quella roba mette insieme proletari intellettuali eccetera eccetera questa cosa che lui racconta sono due passaggi straordinari ma il passaggio che riesce a fare il capitalismo europeo riattrezzandosi in una forma tale da spazzare via la memoria della lotta al nazifascismo io ho fatto il parlamentare europeo e ho momenti in cui mi viene da piangere leggo cose votate nella mia aula parlamentare che dicono l'opposto di quelle che ho votato io cioè dicono che la seconda guerra mondiale è praticamente colpa dell'unione sovietica cioè cose inenarrabili io penso che nessun organismo vivente sopravvive a un taglio così radicale della coscienza e quindi se tu metti insieme questo all'elemento materiale che ti schiacciano ti impediscono qualsiasi avanzamento e miglioramento in senso collettivo per questo finisco ma perché non siamo arrabbiati contro gli altri perché tutta questa rabbia uno contro tra di noi io dico molte volte noi dovremmo fare appunto una specie di epineti noi comunisti rimettere insieme trovare un prevalente una cosa che ci rimette che c'è ecco questo per questo ti dicevo facciamo insieme io ci sono ecco questa cosa però facciamo noi quattro cioè ci vuole una generazione nuova che però deve avere una ragione materiale per farlo perché se non c'è la politica poi è materialità questo è idealità ma è anche materialità insomma è una forma della razionalità umana che oramai è dispersa no? come si fa a vedere quello che vediamo tutti i giorni e pensare che siamo impazziti cioè io guarda cioè cerco di rassenerarmi ma francamente è difficile insomma hai ragione credo insomma che ci sia un attraversamento del deserto che ormai sta durando da troppo tempo che invece qualche in questo attraversamento per fortuna ci sono le oasi come appunto il libro di Pino che ci consente di un po' abbeverarci e ti risolvi no ci sono ci sono una serie di segnali guarda appunto ti dicevo io ho fatto una decina di presentazioni prevalentemente nei circoli di sinistra erdiana sono andato a Bitinia per l'altro la scoperta di questa città immensa sterminata quella sera c'era anche Ginevra per arrivare a Bitinia un viaggio un viaggetto però poi sta borgata col centro siamo andati a mangiare una pizza poi in una trattoria strapiena di gente dei laziali tra l'altro perché c'era una partita dalla Lazio che ti fanno ci hanno rotti i coglioni Florencia era di Bitinia Florencia sì sì però la sezione piena di gente una cosa mi ha meravigliato positivamente che a un certo punto ha chiesto di intervenire una signora e ha raccontato dicendo io sono un'insegnante insomma mi occupo di scuola così insieme a tutti i colleghi abbiamo fatto una biblioteca popolare chiedo a questa sezione di sostenerci capito ridiventi chiedeva ai compagni al segretario della sezione sinistra italiana noi ci stiamo famo le cose voi fate il vostro messaggio insomma ed era pieno di gente era e poi a Ostia e poi insomma più o meno le stesse cose e trovi un clima forse diventa pure Roberto lo ha detto insomma io ho un certo carattere nella vita mia non sono mai stato un settario quindi mi sono sempre fatto carico anche delle ragioni di chi non condividevo le posizioni insomma però e probabilmente questo mi favorisce insomma ma non per opportunismo io ho questi problemi insomma l'ho raccontato questi giorni io pur essendo stato un dirigente negli anni 60 70 se avessi accettato un po' di conformismo di bassa lega probabilmente aveva fatto carire io ho sempre scelto per me diciamo la dimensione della militanza non di base insomma sempre fatto il quadro intermedio insomma nel partito nella Pgc e poi pure nel Pdup e poi pure la ricondazione monista tutt'a più ho fatto il coordinatore qualche sezione insomma appunto il bastato però questo mi ha dato diciamo la libertà di pensarla in maniera così senza fare occhi senza che mi ha permesso di parlare durante perché tutte queste interviste io le ho fatte durante il lockdown quindi ero pure favorito da una situazione contingente perché viceversa poi magari la gente si gli rompi i coglioni quando c'ha da fare invece lì in quel momento nessuno c'ha da fare ero pure ben contenti di fare queste cose l'intervista fatta con Paolo Floss l'abbiamo fatto queste due diverse per capire 36 pagine dell'intervista però poi la gente quando tu gli chiedi le cose le incalzi e così via è disposta perché ristabilisci dei canoni dei linguaggi è quasi è quasi un miracolo io ho alcuni compagni per esempio con Silvia Calamandrei e col marito Fabrizio di Lenzoni erano 50 anni e ne sentivo più e lo stesso con Angelo Bolaffi insomma poi invece ristabilisci diciamo proprio un linguaggio un modo di fare quasi come se non fosse passato e riscopri pure l'amicizia e così via insomma questo è stato diciamo molto positivo molto bello però appunto in queste cose io ho riscontrato un'attenzione particolare particolare poi di un'ultima cosa e la faccio e chiudo però a proposito di responsabilità del perché siamo finiti insomma alcune sere fa presentavano un libro a testaccio non nella sezione ma nella libreria insomma sulla storia dei rapporti non mi ricordo bene il sigolo ce l'ho da qualche parte insomma però scritto da un giornalista del fatto quotidiano era la storia dei rapporti tra Berlingue e Craxi tra socialisti e comunisti negli anni prima che Craxi se n'annasse e morisse insomma erano due presentatori una una insegnante universitaria credo che fosse una filosofa però di un pianto craxiana antipaticissima insomma ci avrei voluto litigare brutto però poi queste cose non si fanno e l'altro era Massimo D'Alema e tutto il suo intervento è quello è stato il racconto di come tutto sommato tra Berlinguer e Craxi si stimassero raccontando aneddoti raccontando e anche come al di là delle divergenze in fondo pure tra Lama e Berlinguer c'era un buon rapporto tant'è che ha detto cioè quando c'è stata la la manifestazione quella di se vi ricordate il titolo dell'unità eccoci con la foto di Berlinguer si contattò lui ha sostenuto lì Lama ci ha messo del suo nel senso che ha fatto organizzare i pulm le cose io l'ho interrotto ha detto Massimo ma che cazzo stai dicendo lì organizzarono le organizzazioni del base del sindacato certo c'è stato il consiglio di fabbrica della Fiat e le altre fabbriche torinese e milanesi insomma ma certo che Lama sicuramente no abbiamo discusso pure un po' un po' così per cui ancora c'è stata tendenza a dir bucì insomma no per cui c'è pure la la necessità di ricostruire una storia senza pregiudizi ma nemmeno nemmeno farzando la storia le cose come sono state insomma gli c'ha le responsabilità compreso lui insomma voglio dire quando lui scrive quando lui ha scritto un paese normale l'ha scritto lui mica l'ho scritto io anzi l'ha scritto Gianni Guberlo per conto di l'ho scritto io l'ho scritto lui va bene va bene si va caldo volevo ricordare perché me l'ha chiesto Roberto il libro è il libro dell'edizione Bordeaux naturalmente online su tutte le piattaforme che distribuiscono le cose nelle grandi librerie si trova insomma se non si trova uno lo ordina lo ordina costa un po' caro perché è un librone da 500 pagine vale la pena giusto che i libri si comprino quindi quelli sono soldi sempre ben spesi no poi ci stanno pure i libri libri diciamo un'altra polemica naturalmente no insomma io ho scritto pure su facebook uno come il cazzullo fa un libro che non vale il cazzo come quello su Mussolini e anche questo qui ancora non lo compro forse non lo comprerò per niente sull'impero perché insomma l'impero romano non è mai cessato che vende 300.000 copie io ho scritto sarà pure un po' di San Nambiglia ma cazzo uno si fa un culo per scrivere un libro ma c'è ancora tre anni poi invece che lo scrive delle cazzate che non portano niente no a me averlo letto proprio non mi è accresciuto di nulla assolutamente purtroppo negemonia però insomma poi c'è questa questa catena di una specie di compagnia di giro per cui quello va da faccio quell'altro va da e poi l'uno se l'uno si invita con l'altro quello va da Paolo Mieri di Paolo Mieri va da quell'altro c'è la situazione editoriale le logiche del grande mercato editoriale non c'è spazio per le piccole case editrici o comunque insomma entriamo veramente in una polemica che anche questa fa parte di tutto quello contro cui insomma bisognerebbe discutere e ridiscutere quindi cioè investe i giornali le recensioni se prendete i grandi inserti culturali della domenica a ripetizione parlano tutti degli stessi libri molto spesso solo rielaborando la sinossi comunque non andiamo oltre grazie vi ringrazio innanzitutto ringrazio Pino per averci dato l'opportunità di incontrarci e di parlare con lui di quello che è stata questa esperienza a Roma ma credo che insomma la valenza sia a livello nazionale come diceva anche Musac che figure che diciamo vanno ben oltre il raccordo anulare e quindi rappresentano un po' uno spaccato di un paese e ringrazio Ginevra perché ci offre l'opportunità di anche di di vedere quello che può essere ancora il seme il germoglio a cui poter fare affidamento nel guardare il futuro con più fiducia perché credo che questo questo racconto che non vuole essere diciamo qualche cosa da studiare ma da capire da comprendere per far capire che un altro modo anche di di fare politica di pensare la politica è possibile ed è un mondo che come dicevano è stato anche bello cioè io penso che anch'io quando faccio politica mi sento appagato ecco e questo appagamento forse è quello che manca nella giovane generazioni che li spinge un po' invece all'isolamento speriamo che invece con questa con queste esperienze di racconto di anche di mettere in luce alcuni aspetti che potevano essere invece oscolati del tutto possa un po' arricchire anche l'esperienza per le giovani in generazione di riaffacciarsi al mondo della politica e al mondo della partecipazione democratica intanto ringrazio Pino ringrazio Roberto Musacchio ringrazio Ginevra per come detto prima di averci dato l'opportunità di parlare di queste cose attraverso queste cose di di parlare anche di quello che è il nostro compito per oggi continuare a sperare e a seminare grazie grazie ancora a tutti grazie a voi un abbraccio ciao Ginevra piacere che ti conosciuto ciao Alberto anche per me grazie davvero ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao ciao ciao